Musica Buongiorno, benvenuti al TG2000, l'edizione delle ore 12. I titoli. Gerusalemme si è rispettato lo status quo. Francesco, al termine dell'udienza generale, lancia un appello per Gerusalemme, città della pace. Atteso per oggi l'annuncio di Donald Trump sul trasferimento dell'ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme e si infiamma il Medio Oriente. Tre giorni di collera proclamati in Palestina. A 20 miglia centinaia di migranti respinti dalla Francia vivono in condizioni disumane. Vedremo in diretta che cosa sta accadendo. In apertura andiamo in Vaticano per raccontare l'udienza generale. Francesco, oltre a tornare sul recente viaggio in Myanmar e Bangladesh, lancia un appello per la pace a Gerusalemme, città unica, sacra, con una vocazione speciale alla pace, ha detto il Papa. Ma colleghiamoci con Cristiana Caricato. Buongiorno Cristiana. Buongiorno da Piazza San Pietro. Papa Francesco oggi è tornato a tenere l'udienza generale in Piazza San Pietro, ma purtroppo è tornato anche preoccupato per la nuova crisi che si è aperta in Medio Oriente in seguito alla decisione di Donald Trump, decisione che sarà a rezza pubblica a breve, di portare l'ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme. Un atto sicuramente duro che in qualche modo infiamma il Medio Oriente e tutta la Palestina. Il Papa ne è assolutamente consapevole e per questo al termine della Catechesi ha rivolto un appello affinché sia rispettato lo status quo della città così come è stato stabilito da varie risoluzioni delle Nazioni Unite e ha parlato di Gerusalemme come di una città unica, sacra per gli ebrei, i cristiani e i musulmani. Naturalmente è anche subito in azione la diplomazia vaticana, vedremo tra poco come, ma prima ascoltiamo le parole di Papa Francesco. Il mio pensiero va ora a Gerusalemme. Al riguardo, non posso tacere la mia profonda preoccupazione per la situazione che si è creata negli ultimi giorni e, nello stesso tempo, rivolgere un accorato appello affinché sia impegno di tutti a rispettare lo status quo della città in conformità con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. Gerusalemme è una città unica, sacra per gli ebrei, i cristiani e i musulmani, che in essa venerano i luoghi santi delle rispettive religioni e ha una vocazione speciale alla pace. Prego il Signore che tale identità sia preservata e rafforzata a beneficio della Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero, e che prevalgano saggezza e prudenza per evitare di aggiungere nuovi elementi di tensione in un panorama mondiale già convulso e segnato da tanti e crudeli conflitti. Dicevamo della diplomazia vaticana già al lavoro, proprio questa mattina alle 9, nell'auletta, accanto all'aula Paolo VI, dove si è tenuta la catechesi, Papa Francesco ha incontrato il Comitato Permanente per il Dialogo con Personalità Religiose della Palestina, una delegazione di altissimo profilo, a cui partecipava anche l'ambasciatore dello Stato di Palestina in Italia, la signora Meia Al-Kaila, e probabilmente durante questa riunione in cui il Papa ha parlato del dialogo tra la Santa Sede e la Palestina, in particolare sulla condizione di rispetto reciproco tra i vari leader religiosi che compongono il mondo palestinese, di cui la minoranza cristiana è una parte anche importante, è probabile, dicevamo, che il Papa abbia affrontato la questione che infiamma in questo momento la Palestina, come tutto il Medio Oriente, la decisione di Donald Trump di spostare l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. Un'esplicita mediazione del Vaticano era stata proprio richiesta da parte palestinese, e quindi si spera che in queste ore la Segreteria di Stato sia al lavoro proprio per scongiurare un'esplosione di violenza che per tutti sembra quasi inevitabile. Il Papa durante questa riunione ha fatto riferimento naturalmente anche al dialogo e a come questo si instaura, soprattutto attraverso la riflessione, la preghiera, la famiglia, non solo all'interno della comunità religiosa ma tra le diverse comunità religiose. Inoltre ha parlato della Terra Santa, proprio come della Terra per eccellenza, del dialogo tra Dio e l'umanità, una Terra che quindi deve vivere la pace. Ma adesso veniamo invece alla Catechesi, Catechesi che il Papa ha deciso di dedicare interamente al viaggio recente vissuto tra il Myanmar e il Bangladesh. Il Papa ha fatto un bilancio di questo viaggio, ripercorrendo le tappe più importanti e esprimendo anche la sua vicinanza al popolo del Myanmar, ma anche al popolo bangladescio, raccontando anche le sue emozioni, i suoi sentimenti. Un viaggio che sicuramente è stato all'insegna della armonia tra le fedi, ricordando anche gli appuntamenti interreligiosi che si sono tenuti tra il Myanmar e il Bangladesh, ma che ha avuto l'obiettivo di supportare non solo la comunità cristiana, ma anche i due popoli, verso una pacifica convivenza e anche la risoluzione di alcune conflittualità interne. Quindi una Catechesi interamente dedicata a questo viaggio, in cui il Papa ancora una volta ha pronunciato la parola a Rohingya, parlando dei profughi che ha potuto incontrare proprio a Dhaka in uno degli ultimi giorni del suo viaggio in Bangladesh. Ed è tutto da Piazza San Pietro, linea allo studio. Grazie Cristiana. Lo avete sentito. Nelle prossime ore il presidente statunitense Donald Trump riconoscerà Gerusalemme quale capitale di Israele e darà indicazione al Dipartimento di Stato di avviare l'iter per il trasferimento dell'ambasciata americana da Tel Aviv proprio a Gerusalemme. Fonti ufficiali statunitensi parlano di un riconoscimento solo di una realtà storica e attuale più che di una presa di posizione politica, ma il Medio Oriente si infiamma. Pierluigi Vito. La bandiera americana sventola Gerusalemme. Per ora è quella del Consolato, ma c'è attesa per la dichiarazione che il presidente Trump dovrebbe fare nel pomeriggio italiano, chiarendo la sua decisione ufficiale di spostare l'ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme, appunto, riconoscendo de facto la città come capitale dello Stato di Israele, col rischio di infiammare un'area già decisamente calda. Come dimostra l'invito alla popolazione da parte delle frange palestinesi più agguerrite di scendere in strada per dare sfogo a tre giorni di collera. Il presidente ha parlato con i leader di diversi paesi e sta portando avanti altri colloqui. Alla fine prenderà la decisione migliore per gli Stati Uniti, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. Il premier israeliano Netanyahu e il presidente palestinese Abu Mazen hanno ovviamente accolto la telefonata di Trump con umori opposti. In particolare, l'autorità palestinese ha definito questa mossa inaccettabile fuori dalla legalità internazionale, auspicando un ripensamento di Washington. Non è l'agitazione solo il mondo arabo. Turchia, Iran e Arabia Saudita su tutti hanno manifestato, in gradi e con parole diverse, contrarietà a questa scelta, ma pure gli alleati occidentali. Aspettiamo e vediamo cosa dirà il presidente Trump, afferma il ministro degli esteri britannico Boris Johnson, che non nasconde però la sua preoccupazione, al pari di Federica Mogherini, che a nome dell'UE invita a camminare piuttosto sulla strada dei due Stati per due popoli, per portare a compimento il processo di pace. La richiesta di prudenza e saggezza da parte del Papa, il presidente russo Putin pronto a intervenire con tutto il suo peso diplomatico come paladino delle istanze di mediazione. Insomma, ancora una volta, Trump contro tutti in un ennesimo azzardo. Giornata di commemorazione a Torino per le vittime della ThyssenKrupp, dove dieci anni fa morirono sette operai. Siamo vicini alle famiglie e ci adopereremo in ogni modo, per quanto il nostro potere, affinché la Germania riconosca che di fronte a tragedie come questa non possono esserci confini. Così il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, sindaco di Torino all'epoca della tragedia, che questa mattina ha partecipato insieme al sindaco Chiara Appendino e ai familiari delle vittime alla cerimonia in memoria e all'avvio della costruzione del monumento per i caduti sul lavoro. Andiamo adesso a 20 miglia al confine fra la Francia e l'Italia. si è venuta a creare una situazione inammissibile con centinaia di persone che vorrebbero varcare il confine ma vengono respinte. Migranti assistiti come è possibile. Molti dormono sulla riva del fiume. Ma andiamo a vedere che cosa sta accadendo collegandoci con Luciano Piscaglia. Buongiorno Luciano. Buongiorno. Buongiorno da 20 miglia. È ancora emergenza, come avete detto da studio. Qui siamo nel centro di ascolto della Caritas di 20 miglia. Fino a pochi minuti fa era gremito da alcune centinaia di giovani e giovanissimi immigranti. A loro, come documentano le immagini, è stato distribuito un pasto caldo. Sono quelli che non hanno trovato posto in un altro centro, qui a 20 miglia, gestito dalla Croce Rossa, dove sono più di 500 le persone rifugiate. Cristian Papini, che è responsabile di questo centro della Caritas, chi viene qui a mangiare, a trovare anche qualche abito per coprirsi, dove vive? Tutte le persone che vengono qua vivono lungo il fiume, lungo il fiume Roia. Stazionano lì e poi ogni giorno cercano di passare in Francia. La temperatura è bassa? La temperatura è bassa, sì. Ieri c'erano 5 gradi, quindi sì, è molto bassa. Infatti di notte si vedono i fuochi accesi lungo il fiume. Chi sono? Da dove vengono? Principalmente Sudan. Chad e Eritrea, ma principalmente Sudan. Ci sono tantissimi minori. Accompagnati? No, non accompagnati. 16 anni, 17, 15. E qualche nucleo familiare, che però va al campo della Croce Rossa, per fortuna, che loro accettano di entrare. Invece quelli che sono lungo il fiume non vogliono proprio accedere. Perché vogliono andare in Francia? Vogliono cercare di superare il confine? Esatto, esatto. Ci riescono? Ci riescono, il problema è che molti vengono poi rimpatriati dalla polizia francese. Voi cosa offrite loro? Qua facciamo distribuzione pasto la mattina, colazione, vestiario, kit di igiene e ambulatorio medico, due o tre volte alla settimana. Tutto questo è possibile grazie ai volontari? Tutto questo è possibile grazie ai volontari, senz'altro, sì. Quanti? Siamo sui 90, noi abbiamo 90 volontari, che ruotano tutti i giorni, sì. Da quanto tempo dura questa emergenza? Ormai non è più un'emergenza, direi che la norma, siamo a due anni e mezzo, sì. Grazie Cristian, la linea torna allo studio. Grazie Luciano, andiamo avanti e parliamo di biotestamento. Con l'accelerazione al Senato, il testo va subito in aula, la volontà è avere una legge entro la fine dell'anno. Ecco il provvedimento al voto, ce lo presenta Federico Plotti. Grazie al forcing dei capigruppo di PD e Movimento 5 Stelle, il disegno di legge sul cosiddetto biotestamento, dopo essere passato alla Camera nell'aprile scorso, ha fatto ieri ingresso in Senato. E stando a quanto si dice, lasciando al 2018 la discussione sullo Ius Soli e lo Ius Culture, potrebbe essere approvato entro la fine dell'anno, nonostante l'annunciato istruzionismo della Lega, che si dice pronta a presentare più di 1800 emendamenti. Ma cosa dice questa legge sul fine vita? Queste sono le questioni centrali. Innanzitutto prevede che nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito, se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Se la persona in questione è un minore, il consenso sarà espresso dai genitori o in casi specifici dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto però della volontà del minore. Ma è l'articolo 3 il nodo centrale della legge, quello che parla delle cosiddette date e le disposizioni anticipate di trattamento, secondo cui ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere può, attraverso le date appunto, esprimere le proprie convinzioni in materia di trattamenti sanitari. Inoltre può anche dare il suo consenso e il rifiuto a scelte diagnostiche e terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Le date sono sempre revocabili e risultano vincolanti per il medico. L'articolo 4 prevede invece la pianificazione delle cure, condivisa tra medico e paziente, che presenti una patologia cronica irreversibile, pianificazione alla quale il medico è sempre tenuto ad attenersi anche quando l'interessato si trova nell'incapacità di esprimersi. E poi si parla anche di accanimento terapeutico e la nuova legge impedisce al medico di ricorrere a trattamenti inutili o sproporzionati quando il paziente è prossimo alla morte. Le famiglie spendono di più per il Natale di quest'anno. Segno che la crisi è alle spalle, ma gli italiani restano comunque prudenti anche perché dal punto di vista fiscale il 2016 non è stato un anno così limpido. Aumentano infatti le disuguaglianze e 18 milioni sono i poveri nel nostro paese. Maria Sara Farci. Sarà un felice Natale, almeno per quanto riguarda lo shopping. A riferirlo uno studio Coldiretti basato sulle vendite del primo weekend di dicembre. Una spesa media di 528 euro per famiglia, con un aumento del 4,4% rispetto all'anno scorso. Ad aumentare saranno soprattutto gli acquisti online. Secondo Coldiretti infatti il 35% dei regali di Natale verrà comprato su internet con una spesa media di 170 euro a famiglia. Un dato che ci pone al terzo posto in Europa, tra i paesi che si affideranno all'e-commerce per i regali da mettere sotto l'albero. Un Natale che comunque resta prudente secondo Confcommercio. i consumi degli italiani in questo periodo saranno stabili, nonostante le tredicesime più alte degli ultimi dieci anni. Intanto l'Istat rileva una significativa e diffusa crescita del reddito disponibile e del potere d'acquisto delle famiglie. Il tutto grazie al minore peso fiscale dovuto agli effetti delle detrazioni IRPEF di 80 euro. Una misura che è andata a favore soprattutto delle fasce più deboli della popolazione, ovvero quelle con un reddito inferiore ai 25 mila euro. Eppure lo stesso Istituto di Statistica rileva come ad aumentare in Italia siano anche le diseguaglianze economiche, con il 30% della popolazione italiana a rischio povertà. Il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, è da ieri sera in visita a Ischia per ricordare il dramma del terremoto del 21 agosto scorso. Prima una messa celebrata a Casamicciola con il vescovo di Ischia Pietro Lagnese, quindi l'incontro con i parenti delle vittime. Conosco personalmente i disagi, le lacrime e le sofferenze di chi con la sua casa ha perso i beni e gli affetti della sua vita, ha detto il presidente della CEI, che è anche arcivescovo di Perugia. Aggiungendo, dinnanzi a certe tragedie, la cosa più importante è rimanere uniti e condividere. E' morto a 74 anni Johnny Halliday, cantante e attore francese, icona della cultura popolare d'oltre Alpe, l'artista che ha portato il rock all'ombra della Tour Eiffel. Il ricordo nel servizio di Silvio Vitelli. Ha composto un centinaio di canzoni, inciso mille titoli e venduto 110 milioni di dischi. Così il quotidiano francese Le Mans sintetizza la straordinaria carriera di Johnny Halliday, morto questa notte all'età di 74 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro ai polmoni. Personaggio controverso, ma dall'eccezionale popolarità, in gran parte rimasta confinata in patria. Esordisce alla fine degli anni 50, diventando in poco tempo l'Elvis Presley di Francia. Da rock al twist, passando per il country blues, l'idolo dei giovani, di quella accusata di essere la generazione perduta, alla quale dedica il titolo di un suo fortunato album. L'eco in Italia non è stato soltanto musicale, ma anche di costume, soprattutto dal 1965, quando sposa Sylvie Vartan. La bellissima Sylvie Spopola, cantando anche in italiano, la coppia diventa il simbolo del pop made in France. Il matrimonio finisce dieci anni dopo e anche la sua carriera sembra oscurarsi. In appena un paio d'anni, invece, rialza la testa e torna a cavalcare le classifiche. Nel 93, la consacrazione del mito musicale, in occasione del cinquantesimo compleanno, col suo primo megaconcerto al Parco dei Principi. C'è lui a celebrare il passaggio all'anno 2000, con mezzo milione di persone che lo acclamano sotto la Tour Eiffel. Il premier del Belgio gli ha reso omaggio questa mattina. Il padre di Alidei era belga. Emmanuel Macron e la moglie Brigitte hanno annunciato che parteciperanno alle esequie. L'Eliseo non esclude una cerimonia di omaggio nazionale. È tutto, il telegiornale torna alle 18.30. Buona giornata. L'Eliseo non esclude una cerimonia.